Un corteo lungo e silenzioso per ricordare Mauro di Lecce quanti come lui hanno perso la vita sulla strada. La manifestazione si è svolta ieri a Bicelli e a pochi giorni dalla tragedia della Domenica delle Palme quando il 57enne fu investito e ucciso da uno scooter guidato da un 15enne che non si fermò dopo l'incidente. Il minore fu individuato poco dopo grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza del traffico cittadino. Il corteo partito da Piazza Margherita ha attraversato il luogo dell'incidente in via Embriani per proseguire in corso Umberto I fino all'abitazione dello sfortunato imprenditore rimasto ucciso. Al corteo tanti amici e conoscenti della vittima titolare di un tarallificio ma anche il sindaco Spina, il presidente di Confcommercio di Bicelli e il comitato di imprenditori Bicelli e Viva. Una testimonianza concreta dell'affetto che in tanti nutrivano nei confronti di Mauro di Lecce è un segno di vicinanza alla sua famiglia ancora provata da un lutto difficile da assorbire.